ma cos'è questo casino mi starete chiedendo? allora vi spiego tutto oggi è 6 appunto e visto che io amo la sua fan della primavera dell'estate ho detto mia mamma perché non prendi delle cose alla posta per vedere la sua casa in modo primaverile ma ovviamente c'è perché si perché io amo queste soggioni quindi sicuramente si e io non ho detto a fare la verettina queste sono cose pasquali sono pasquali qua sono uova, sono ragioni, gli altri ragioni e questo qua sono uova questa notte di viola mi piace mi sono un po' qualche minuto qua una volta che vanno alla posta se non prendo tante cose non mi chiamo Miriam pur adesso sa come questo questa sacca ragazzi questa si sa proprio prima a vedere i colori prendi i colori i colori stanno migliorando perchè lo preferisco e ragazzi un gattino miau piccolino non ci fa le fusa si è troppo bello e ragazzi guarda questo ombrello un altro ombrello che è risolto e questo e questo è come un casino e ci si mette un muro a portare tutto alla mia casa oh adesso ci no spero non si può mettere il regalo perfetto questo? questo si perfetto si 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 faricotterina faricotterina ci non sapete che faricotterina infatti nel mio canale non ne ho mai parlato faricotterina allora è un faricottero non è faricottero solo che ho una corona in testa ed un faricottero mi sono inventato degli anni fa faricotterina proprio sarebbe il mio simbolo e su youtube non ne ho mai parlato ma comunque se volete che ne parlo lo scrivetelo nei commenti e così inizierò a parlare anche di faricotterina e ci dai piccoli che scrive la storia per questo a me sempre potrei fare la scrittrice e ragazzi quindi è tutto così perché ho deciso di creare la famiglia più un passare web comunque se volete restare insieme a me casomai fare una parte 2 se non è solo il tempo e se domani non pubblicherò video mi auguro buona domenica quando state per combiti scrivetemelo nei commenti e ce lo spesso i combiti il mio hito stavo pensando perché toko warm non poteva mettere negli anni di primaveri era solo il parco non so non lo ricordo no vedete con quei colazioni e allora Lorenzo Lorenzo Marco e San perfetto no ragazzi stavo facendo un'uscita altra volta ieri quindi bisogna avere un altro cane si chiama ADP no non so almeno si chiama bene qua ho messo pure un altro ombrello in caso di necessità la ripingola e delle nuove taccine facciamo qui dei soldi dei cappellini per fare la costa perfetto aia ragazzi ma come mi dice che sia piena se lo mettiamo fuori e facciamo che bellissimo è bellissimo mamma mia è mio la mia 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 questo poster ragazzi è molto bello e io che amo i fiori amo le piante se ne vedete come se vuoi amare i fiori e le piante io pazza ogni volta che fiori una pianta mamma me la deve comprare perché sono a sé si deve stare gitta un pochino c'è obbligo che non metti toro ombra a lei oh bisogna fare sempre ditta 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 ma che ditta se lo mettiamo qua no aspetta lì no qua lo mettiamo fuori in basso no no e mi è risata la rampa di donna di donna chi è di donna non lo conosco donna è donna no 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 non lo devo dire perfetto lo mettiamo qui non lo metto perfetto la rampa da gelato lo stanno voglio dire che è camera mia mi è riuscita le decorazioni però me la prendi già ma faccio non lo stai conto e ci viene i piani il mio amore i fiori mi è riuscita guarda quanti animali stanno assieme penso che è bello da mettere fuori eh oh perfetto ora posso mandare sopra maledetta l'estate col suono delle sirene delle zicale tropicale 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 no questo mi è riuscita se ho cercato dove prendere questo vedete che se se non avete bisogna avere per forza mi lascio qua no 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 mi lascio qua addio addio azioca comunque io sono ma nei corti con un numero caldo io tengo freddo comunque io per ora tengo così caldo e freddo è strano terzi qua fuori non ho correddato lì sarebbe molto bello una farfalla da prendere ognuno è stato l'osma ferricotterina vedi qua l'esco veramente mi fa vedere questo video che voglio più super l'esco grande l'esco l'esco ho l'esco 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 l'ho già sventilato si, ovviamente l'ho già sventilato si, ovviamente l'ho già sventilato perché sono fuori di caldo, purtroppo ancora vuoi cambiare vuoi cambiare ha fatto il nostro in realtà sono il sito andava all'ingresso però qua c'è proprio è difficile vorresti bere aspetta ragazzi mi sapevo di una bella idea se ci possiamo mettere un contenitore comunque ragazzi aspetta che ho portato a mettere la musica quando faccio la cassa mi stavo affogando oh oh ma non è stato male ah 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 veramente a me piace molto bella che si è arrivato poco là sopra ma se vorrei partire dove vorrei andare Miriam? no se vedo per il bilancio turistico mi era voluto questa idea a me ne stanno vorrei fare pure dei video ah mi è caduta la porta addosso addosso mi è sicuro aiuto che caldo il concetto aspettare questo me ne frega adesso qua facciamo un video estate che basta un pastire il marco di Napoli ci vediamo a te